è il momento, siamo ancora nella categoria ragazzi, è il momento di una ragazza di Livorno quindi iniziamo subito a conoscere chi gioca in casa, Martina Russomanno Martina, di qua, corri corri Martina, vieni vieni, corri Martina, ciao benvenuta, elegantissima anche lei, grazie aspetta un attimo perché è successo il solito problema del microfono eccolo, ce lo porta Chiara, bene, tutto in diretta, non ti preoccupare, va benissimo meraviglia ci fate le sorprese, uno di qui e uno di là, uno di qui e uno di là poi dobbiamo indovinare noi da che parte è da quello il bello, no? una cosa che voglio dire, voglio sottolineare così, in maniera tale da mandarlo in tutta Italia se non in tutta Europa, è l'eleganza di questi giovani artisti quando si presentano ad un evento così importante facciamo un applauso per la scelta di gusto complimenti grazie chi ha scelto l'abbigliamento? mia madre la mamma, applauso alla mamma complimenti quanti anni hai Martina? undici undici anni, da Livorno ci canti That's what friends are for Martina Russomanno la mamma, applauso alla mamma Ma Molly, amm. una mamma, applauso alla mamma No, but you can't always care of me For sure That's what friends are for For good times and bad times I'll be on your side forevermore That's what friends are for The way you came in love with me And the way I do so much more I see And so by the way I thank you Oh, and there's a lot of times when you hope I Would you close your eyes and know And the world is coming from my heart And if you can remember Keep smiling, keep shining No, you can't always care of me For sure That's what friends are for The good times and bad times I'll be on your side forevermore That's what friends are for Keep smiling, keep shining No, you can't always care of me Oh, for sure That's what friends are for For good times and bad times I'll be on your side forevermore That's what friends are for Keep smiling, keep shining Non serve che il concorso è una cosa seria Ora siamo tranquilli perché ti devi ancora esibire Hai già dato un'occhiata? Sì, ho già dato un'occhiata Come è il teatro visto da... Dal dentro, dal dentro È dura Bello, no, una bella sensazione dai Ho già le prove, bello Bello Cosa canterai? Figlio della polvere Un brano scritto, testo e musica da me Arrangiato da me Quindi sei in gara fra gli inediti Fra gli inediti, esatto Forse è la categoria più difficile Sì, perché sono brani che alla fine non conosce nessuno Quindi... Se sei anche autore è doppia soddisfazione Sì, infatti già essere arrivato qui è già buono Insomma, però... No, 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 incredibilmente Se andiamo avanti Se andiamo avanti... Meglio, chissà Siamo curiosi di sentire questo brano inedito, eh? Mi raccomando Allora, ancora da Livorno? Sì Accogliamo Asia Zigoli Ciao Asia Che look strepito Viene al centro, viene al centro Unica, la classe, l'età Undici anni Undici anni Cosa ci canterai? Musica e parole Ah, allora ecco perché... Beh, beh, mettiamoci più qua così ci facciamo vedere meglio Roberto, hai visto? Io sono... Rimango sempre... Qualche anno che la conosco rimango sempre a bocca aperta Perché... Grazie Trova degli abbinamenti e abbigliamenti molto particolari Questa volta sei in chiave rock Sì Ci proponi musica e parole Quanti anni hai? Undici Asia Zigoli da Livorno Grazie Un bel applauso Musica e parole In contraddizione In contraddizione In aria Casti in di comparse Di infinite farse Nella storia Noi siamo il futuro Con le pezze al culo Di sicuro Paradiso un corno Siamo già all'inferno Basso anch'io Solo tu Solo tu Solo tu Tu sei Solo tu Solo tu Solo tu Sei Solo tu Solo tu Mentre tu sai Perché non ci sto Solo tu Solo tu Tu solo tu Sei Solo tu Solo tu Mentre tu sai Che l'arrivo imprevisto Di un povero Cristo Non ci salverà Musica e parole Spaccano Datemi una lamenta Che mi taglio le vene Qui vedo che ti sei Carrozzata Ma il metal detector Ti ha fatto passare Qui al God of Peace No Fortunatamente Non c'era il metal detector Perché se no Eh ragazza Questa è una cantante di peso Eh L'abbiamo zavorrata bene Ma come vedete Com'è tranquilla Rilassata Si è già esibita Asia Zigoli Giusto? Hai cantato? Musica e parole Sì va bene Ma come l'hai cantata? Bene? Male? Non lo so Per me è andata Abbastanza bene Spero Poi deve decidere la giuria Eh sì Purtroppo è il giudizio e la giuria Però insomma Cioè te che hai sentito Diciamo questa canzone Uscire dalle sue corde vocali Avrai avuto un'impressione Datti un voto Da uno a dieci Sei e mezzo Eh sei e mezzo Via Su su almeno Almeno otto Ha giudicato otto Buono Ami cinque Vai Il giudizio e la giuria Grazie a tutti